Cristo è risuscitato, guardiamo con occhi e cuore nuovi ad ogni evento della nostra vita, anche a quelli più negativi. I momenti di buio, fallimento e peccato possono trasformarsi e annunciare un cammino nuovo per noi e per gli altri, specialmente per quanti soffrono a causa dell'egoismo e dell'indifferenza. Al Regina Celi del Lunedì dell'Angelo, Papa Francesco ha riflettuto su come i nostri cuori siano ancora ricolmi della gioia pasquale. La vita ha vinto la morte, la misericordia e l'amore hanno vinto sul peccato, ha ribadito il Pontefice, invitando a pregare il Signore per il dono della speranza affinché ci si apra questo nuovo e meraviglioso orizzonte. Come gli apostoli che, dopo la risurrezione, avvertirono di nuovo il bisogno di seguire il Maestro, in questo anno giubilare, ha spiegato, siamo chiamati a riscoprire il confortante annuncio della risurrezione sull'esempio di Maria, che non si è piegata di fronte al dolore. Nel suo cuore straziato di madre, ha ricordato, è rimasta accesa la fiamma della speranza. Quando abbiamo toccato il fondo della nostra miseria e della nostra debolezza, Cristo risorto ci dà la forza di rialzarci. Se ci affidiamo a Lui, la Sua grazia ci salva. Signore crocifisso, è risorto e la piena rivelazione della misericordia, presente e operante nella storia.